E' di qualche tempo fa il report che documentava il calo demografico nella nostra provincia, definito preoccupante ma assolutamente in linea con il dato nazionale. Nel territorio però c'è una realtà indecisa controtendenza ed è quella del comune di Mondolfo Marotta che segna un saldo positivo di ben 123 abitanti, passando dai 14.235 di fine 2016 ai 14.358 al 31-12-2018, diventando così il quarto comune della provincia dopo Pesaro, Fano e Vallefoglia, passando anche di qualche lunghezza Urbino che ha subito negli ultimi anni un pesante calo demografico. Sono dei dati incoraggianti in quanto negli ultimi due anni il comune di Mondolfo ha incrementato la propria popolazione, quindi ci sono 123 abitanti in più, siamo arrivati a 14.358 abitanti, quindi siamo soddisfatti perché sono dei dati che ci fanno ben sperare per il futuro. Unico dato in calo la popolazione straniera, meno 152 unità, passata dai 1.376 del 2015 ai 1.224 di fine 2018, rappresentando così l'8% della popolazione totale con la comunità senegalese, 241 abitanti, tra le comunità più numerose. Dei 14.358 residenti, 7.138 sono i maschi e 7.220 le femmine e 5.936 i nuclei familiari. Ma quali sono le motivazioni di questa attrattiva demografica del quarto comune della provincia? I fattori credo che sono diversi, quindi dalla qualità della vita, l'accessibilità dei servizi, un territorio che sicuramente offre tanto. Ci ha stupito perché negli ultimi anni molti comuni della provincia di Peseurbino hanno subito un decremento della popolazione, invece questo aumento da parte di Mondolfo e Marotta davvero ci incoraggia molto. Noi come amministrazione comunale cerchiamo sempre di fare il massimo per portare avanti una politica che migliori la qualità della vita dei nostri cittadini e punti quindi a migliorare la città e rendere sempre più la città a misura d'uomo e di famiglia.